Tra gli aspetti più positivi del sondaggio del centro, scegli il tuo sindaco e l'invito ad una partecipazione attiva al quale la cittadinanza sta rispondendo con entusiasmo, non solo esprimendo preferenze, ma anche coinvolgendosi in prima persona. Da qui la presenza di diversi outsider tra i primi posti di una graduatoria ancora parziale. E' il caso di Domenico Salerno, detto Nico, finanziere di 46 anni, sposato con la signora Maria e padre di Giulia e Giorgia, attivista di base da molti anni in Fratelli d'Italia e con la qualifica di dottore commercialista si è ritrovato nella top ten delle figure più apprezzate per poter ricoprire il ruolo di primo cittadino, ma non per caso. Tutto nasce da una riunione fatta all'inizio di marzo con un gruppo di amici che mi hanno chiesto di impegnarmi attivamente in prima persona in politica, politica che faccio da sempre, però sempre con un ruolo secondario. Mi avevano invitato a candidarmi come consigliere comunale e io ho raccolto il loro invito. Poi è venuta fuori questa iniziativa del centro che quindi chiedeva ai cittadini chi volessero come sindaco e sono stati proprio i miei amici a dirmi ma perché non potresti essere tu il candidato sindaco per questa città, cos'è che non hai per poter ambire a questo ruolo. E da qui è iniziato poi una serie di contatti, loro hanno incontattato i loro amici, ogni giorno mi mandano degli screenshot e dei whatsapp relativamente alle schede che raccolgono e vanno a mettere nelle edicole previste. E poi è uscita fuori questa gradatoria e mi sono ritrovato sorprendentemente al sesto posto. E se proprio non dovesse essere candidato sindaco, Nico Salerno sarà quasi certamente in lista con Fratelli d'Italia, ma occhio alle primarie suggerite dallo stesso partito della Meloni. Quello che voglio fare è mettere la mia esperienza, le mie competenze al servizio della mia città, che io amo e adoro. Sono stato fuori per motivi lavorativi diversi anni, sono rientrato ormai da un decennio. Io amo a dismisura la mia città, sono anche un grande tifoso del Pescara e quindi Pescara è la città che amo e che ogni volta che vedo che qualcosa non va, per me è comunque motivo di dispiacere. Chiesura ha una grande priorità per la città di Pescara, la prima che ti viene in mente? E' quella di ampliare immediatamente il depuratore, perché ampliare il depuratore significa non sversare i liquami nel fiume e quindi non inquinare il mare, quindi riportare Pescara a quel ruolo di protagonista nel turismo che è merita.